Non solo per il centrodestra, la corsa per il Campidoglio è in primo piano anche per le altre forze politiche. All'interno del Movimento 5 Stelle, sui nuovi assetti dopo la morte di Casaleggio, Grillo dice, resto garante. Andrea Bovio. Sull'esito delle prossime amministrative, il Partito Democratico è ottimista. Possiamo fare bene anche a Roma, dice Guerini, alla faccia di qualche sondaggio. Il vice segretario PD ricorda le europee, ci davano dietro i 5 Stelle, poi abbiamo doppiato il Movimento. Il cagnirato al Campidoglio Giacchetti pensa a un piano di rilancio della capitale che guarda anche a progetti realizzati altrove. Si può fare ad Ostia, dice, ciò che Barcellona ha fatto alla Barceloneta. Serve un progetto complessivo per rilanciare a Roma la convenzione del PD, per farla tornare ad essere la città che tutto il mondo ammira. Da una parte c'è uno scontro di potere dentro il partito di Grillo per chi deve comandare dopo la scomparsa di Casaleggio. Dall'altra le destre stanno utilizzando Roma come teatrino per regolare i propri conti interni. Noi invece pensiamo che Roma debba tornare a splendere.